Dopo la Corte di Giustizia Europea, anche il Tar del Lazio ha dato ragione a CGL e Inca che nel 2012 avevano proposto un ricorso contro la tassa sui permessi di soggiorno introdotto dal governo Berlusconi. E così da domani gli stranieri che devono rinnovare carta o permesso di soggiorno pagheranno solo 30 euro. Chi in questi anni ha pagato la sovra tassa potrà richiedere il rimborso di quanto versato. Si va da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Per noi una grande vittoria perché siamo stati sulla strada giusta, avevamo ragione, ma quello che è importante è una grande vittoria per tutti i cittadini che vengono nel nostro paese e che hanno diritto ad un'accoglienza, ad un'integrazione corretta, giusta. In una città multietnica come Prato gli aventi diritto sono tantissimi. La CGL si è mossa per tempo già all'indomani della sentenza europea e ha attivato uno sportello ad hoc. Sono state contattate mille persone e di queste già 184 hanno inoltrato richiesta di rimborso. Fanno la parte del leone gli albanesi e i nigeriani, mentre al momento si è presentato un solo cinese, anche se il sindacato confida nel Tantam. A febbraio di quest'anno abbiamo aperto uno sportello, il martedì pomeriggio, il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, proprio per dedicare a queste persone la pratica per la richiesta di rimborso. Ecco, tra mille contatti per gli stranieri significa un bel risparmio. Cinque persone, lui è un operaio che guadagna all'incirca 1100 euro, è costretto a pagare un kit di 700 euro, perché moglie e marito e tre figli. Ogni anno. Da domani? Da domani pagheranno solo 30,46 euro.